In occasione della Santa Vasqua, con piacere, voglio fare gli auguri a tutti i donatori e le loro famiglie, ricordando loro che il malato non va mai in ferie e ha sempre bisogno di noi. In verità io non posso lamentarmi, i donatori rispondono, noi facciamo sempre delle belle raccolte, però voglio ricordare a chi già lo fa e a chi potrebbe farlo e magari per distrazione non ci pensa e non lo fa, di accostarsi alla donazione, di venire a trovarci in sede, la sede noi cerchiamo sempre di rinnovarci, di metterla sempre in sicurezza, la donazione è in sicurezza, non ci sono rischi di nessun genere. Approfitto anche per dire un'altra cosa, che io mi sto attivando per fare il vaccino anti-Covid per i donatori in sede. Il nostro turno dovrebbe essere a breve, siamo dopo i sessantenni mi sembra, poi c'è una categoria a rischio, dopodiché vengono i donatori che sono considerati comunque una categoria privilegiata. Appena questo sarà possibile vi avviso con un messaggino, spero di poterlo fare in sede, per cui vi facilito e evitiamo di fare le prenotazioni e quant'altro. Questo ve lo comunicherò appena sarà arrivato il nostro turno. Vi ricordo che la donazione è sempre i soliti giorni, lunedì, giovedì, la prima e la terza domenica in sede, poi le altre domeniche siamo in giro un po' dappertutto in tutto il Cilento. L'orario è sempre dalle otto a mezzogiorno, vi aspetto sempre con piacere. Ricordatevi sempre che l'Avis è la nostra famiglia, la sede, le automoteche sono vostre, perché è con il vostro contributo e col vostro altruismo che io riesco a fare quello che faccio. Un abbraccio a tutti voi e vi rinnovo gli auguri per la Santa Pasqua.